Salve amici, benvenuti ad un nuovo video. Oggi voglio recensire Le 5 leggende, il film della Dreamworks che ha guadagnato ben 306,9 milioni di dollari a fronte di un costo di 145 milioni di dollari di budget. Ma vi state chiedendo perché ho l'immagine di Nicholas Nord sullo sfondo? Allora, perché per questa recensione particolare ho scelto di abbinare ad ogni categoria del video un guardiano che compare nel film e quindi con l'introduzione ho scelto Nicholas Nord, Alice Babbo Natale. Poi quando ci saranno le altre categorie sceglierò ovviamente altri personaggi a rappresentare codeste categorie. Comunque questo qua è un film che è stato molto importante in casa Dreamworks perché i guadagni al di sotto delle aspettative hanno dato un danno economico che non è stato poi di poco conto visto che ha portato l'azienda a licenziare ben 350 dipendenti. Se volete sapere più di questa cosa qua ho messo il link di una fonte a mio parere attendibile qua nella descrizione del video. Ma discorsi economici a parte partiamo adesso con la trama. Che film è le 5 leggende? Della trama dirò soltanto un brevissimo accenno perché mi sono accorto che tantissimi ancora non hanno visto questo film e quindi non voglio rovinare la prima visione a chi ancora non l'ha visto. Comunque ho scelto quel bel fustacchione di Jack Frost per rappresentare la trama. E di fatto è questa allora. Ci sono 4 guardiani che rappresentano degli esseri magici a cui credono i bambini. Ad esempio Babbo Natale oppure Coniglio di Pasqua. Nord raduna tutti gli altri guardiani perché Peach Black che sarebbe il malvagio uomo nero è tornato e insieme tutti quanti discutono finché l'uomo nella luna che è un essere superiore propone di eleggere un nuovo guardiano. Ovvero Jack Frost che dovrà aiutare i restanti guardiani a sconfiggere Peach Black. Ed ora passiamo ai personaggi e partirò con Calmonio che dà l'immagine a questo capitolo. Di fatto Calmonio è la rappresentazione del Coniglio Pasquale, del guardiano della speranza, è scontroso, testardo e irascibile ma è anche un ottimo combattente, soprattutto è anche molto sincero e leale. Jack Frost è lo spirito dell'inverno ed è il guardiano del divertimento. È il protagonista principale e nonostante inizialmente non voglia diventare un guardiano come gli altri, sembra essere molto felice per far divertire i bambini e ci tiene a vedere i felici. Nord è la rappresentazione di Babbo Natale nel film, è il guardiano della meraviglia ed è il leader di tutti i guardiani, può aprire dai portali di teletrasporto ed è molto abile a costruire giocattoli. E una cosa che ho notato, che pochissimi altri hanno notato, è che Nord di nome fa Nicolas e per chi non lo sa Babbo Natale ha preso ispirazione proprio da San Nicola di Bari, ovvero un santo italiano. Dentolina è la fata dei denti ed è la guardiana dei ricordi, ha un esercito di Fatine e di Topolini che lavorano in Europa. È innamorata pazza di Jack, non sta mai fermo a un attimo, proprio è un tornado vivente. Nei denti dei bambini si racchiudono i ricordi di quest'ultimi, tra cui anche i ricordi di Jack Frost, visto che a un certo punto saranno importanti per la trama. Sandy è il guardiano dei sogni ed è l'omino del sonno, non è tanto famoso da noi, però io già conoscevo l'omino del sonno perché era già stato rappresentato in qualche corto classico Disney. È il più anziano di tutti, non parla mai, ma si esprime con delle piccole costruzioni di sabbia che gli permettono di comunicare con gli altri. E punto di vista estremamente personale, è anche quello che mi sta più simpatico di tutti. Pitch Black, come ho già detto prima, è l'uomo nero, è il guardiano degli incubi, è l'antagonista principale del film. Per molto tempo non si è fatto vivo perché i bambini non credevano più in lui e per questo lui vuole cancellare i ricordi di tutti i bambini negli altri guardiani e far cadere tutto il mondo nell'oscurità. Per questa categoria ho scelto Pitch Black. Allora, le conseguenze di questo film. Allora, questo film ha avuto un'accoglienza tiepida sia da parte del pubblico sia da parte della critica. I mancanti guadagni hanno segnato un punto di svolta in negativo in casa di Inworks che non si vedeva dai tempi di Sinbad. Probabilmente la causa di questi mancati guadagni, per un film che poi successivamente è stato anche rivalutato in meglio, dicevo, la colpa probabilmente è stata di una mancata campagna pubblicitaria adeguata. Come già detto all'inizio, Jeffrey Katzenberg è stato costretto a licenziare ben 350 dipendenti per tamponare le perdite economiche e da lì in poi la Dreamworks ha iniziato una lenta parabola discendente che ha costretto l'azienda a sacrificare la creatività in favore di guadagni facili per i film futuri. Ed è per questo che oggi la Dreamworks è costretta a fare sequel con i guadagni già fatti oppure film destinati ad un pubblico dai 0 a 5 mesi per sopravvivere perché altrimenti proprio questa qua fallisce del tutto. Per rappresentare i pareri personali io ho scelto Dentolina. Allora, alcuni hanno massacrato questo film, altri invece lo hanno venerato definendolo uno dei migliori film di sempre. Per me la verità sta nel mezzo, infatti per me. Le 5 leggende è un film da 6 e mezzo 7. Le critiche grafiche, di solito che io rivolgo ai film della Dreamworks qua non valgono. Innanzitutto lo stile di disegno è migliorato tantissimo. E in secondo luogo ho notato che tantissimi film della Dreamworks avevano i personaggi che si illuminavano da soli, un po' come felicità in Inside Out. Questo accade anche qua, ma in questo film però ha un senso perché le 5 leggende sono degli esseri magici, quindi ha anche un senso il fatto che loro godano di luce propria. Per quanto riguarda la storia invece è molto semplice, diretta, non mi ha fatto riflettere dopo aver visto questo film. E non mi ha neanche dato materiale per dibattere come invece succede nei film Disney oppure Pixar. E le gag comiche sono state ben dosate secondo me. E ho apprezzato la citazione a bambi della Disney, in particolare quando, come si chiama, il calmoniglio, regredito a semplice coniglio, inizia a battere la zampa dopo essere stato accarezzato dal bambino Jimmy. Questa qua è una citazione a tamburino i bambi. Ho apprezzato anche l'idea che per vivere i guardiani hanno bisogno dei ricordi dei bambini. Per quanto riguarda il doppiaggio italiano, secondo me è fatto molto bene. E a tal proposito, voglio anche dire una chicca. Jack Frost è doppiato da Andrea Mete, figlio di Marco Mete. Riccardo Nissem, scusate la pronuncia, Onorato, che è la voce di Peach Black, è il figlio di Glauco Onorato, la voce di Bart Spencer. Mentre tra gli altri doppiatori troviamo anche Letizia Ciampa e Francesco Pannofino, voci rispettivamente di Cremina e di Nord. Per l'ultima categoria ho scelto Sandy. Allora, per me, Le Cinque Leggende è un ottimo film, soprattutto da vedere in periodo natalizio. Però non riesco a considerarlo tra i migliori film della Dreamworks. Semplicemente perché lo reputo una versione alternativa della storia dello spirito invernale, anche se realizzata molto bene, devo dire. Mi dispiace che il pubblico abbia impiegato tanto tempo per apprezzarlo veramente. Ed è brutto come con Le Cinque Leggende sia praticamente finita la leggenda della Dreamworks, che lentamente abbandonerà sempre di più i film seri in favore di film puerili dal guadagno facile. E penso che la causa sia stata proprio la domanda, ma a chi è rivolto questo film? Le battute comiche sì, ce ne sono, ma non tante, quindi non lo vedo proprio diretto ai bambini. Per quanto riguarda gli adulti, invece, non lo vedo diretto nemmeno a loro, perché non hanno bisogno gli adulti per capire chi sia Babbo Natale, chi sia il conegno di Pasqua, eccetera, eccetera. E quindi la domanda che mi soggia spontanea è, ma questo film qui, a chi è stato diretto? Ok, comunque, spero di aver dato giustizia alla pellicola con questa mia recensione. Grazie a tutti quanti per aver visto questo video, la prossima volta farò un'altra recensione di un altro film, stavolta Sponda Disney, sempre a tema natalizio, visto che siamo sotto il periodo di Natale. Mi raccomando, state a casa, non andate in giro senza mascherina, piuttosto state a casa e come ho fatto io, che ho fatto gli anni recentemente, fate la festa di compleanno via internet, che così almeno non ci sono problemi, non ci sono Green Pass, non c'è niente. Un bacione a tutti, un abbraccio, alla prossima volta ragazzi. Au revoir!